Sono le 21, buonasera a tutti quanti e benvenuti alla mia live modestamente, io sono il grato quello che tuba e... Ho il ciuffo Un bel ciuffo Buonasera, come traditore, come mai? Che ho fatto? Buonasera, buonasera, buonasera Vi auguro un buonasera a tutti Buonasera Perdonatemi per stamattina, non ho fatto la lives, però profiqui situazioni, intanto grazie a Gabona, Virit e Purof Dennis, salve, grazie mille, Lord Altair, 10 mesi, complimenti, complimenti, grazie mille E... Grazie a loro Perfetto non ha senso, Feredo, c'è una piazza e mezza Grazie a G-Quazza, sono 17 come il numero che porta sfiga, ma ce lo facciamo andare bene lo stesso, grazie Gataus per tutta l'afficcanza, grazie mille, grazie mille a Figuliv, a Bauli per i suoi tre mesi, seragato, e CrazyDogXXLaw Grazie E... Abbiamo pulito un po' il pavimento, abbiamo fatto la lavastoviglie, pensate, e poi dopo ho riposto le stoviglie nel portastoviglie Basta, in realtà ho fatto un botto di roba, ma ci ho messo, abbiamo pulito un po' per terra 18 di ping, niente Google Stadia, solo giochi su floppy disk Simo, pasta, studio e siri sub, auguri per la casa, grazie mille, grazie a Shishwa per i suoi 28 mesi Eh niente Che casalingo No, in realtà abbiamo assunto i ruoli classici della donna degli anni 50, infatti è stata la mia signora a lavare il pavimento mentre io smadonnavo dietro alla tecnologia, va bene Grazie Termos per il loro ride, e Lanxylot per i suoi 22 mesi, grazie mille Un casino, un casino Oh ve lo giuro, allora, per carità, non sono questo luminare della tecnologia Ma io ho dovuto chiedere, ho speso 30 euro, 29,90 che mi verranno aggiunti in bolletta per configurare il router Perché? Sapete perché? Perché l'impostazione per la rete telefonica del router, quella preimpostata, non va bene Bisognava cambiare due parametri che erano nascosti da un menu a tendina che ve lo giuro non ho trovato Due, cioè I parametri, sapevo quelli che dovevo mettere, non trovavo la tendina Salve a bisogno, eccoci, noi siamo dell'assistenza La tendina la trova, lì, 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 fatto 29,90 euro Team expert, sì La telefonata è durata un secondo, perché nell'istante in cui mi ha detto quello, io ero a posto, non mi serviva più Non mi serviva più Io l'avevo già risolto Non mi serviva niente Sapete quella è la cosa divertente? La cosa divertente e la cosa infame Loro vendono il router che ho preso io, no? Loro lo vendono nel loro sito È un fritzbox, adesso non mi ricordo il modello Comunque, non è preimpostato, cioè è impreimpostato ma non va bene Ok, l'ho comprato L'ho portato Sul sito della team, ve lo giuro, sul sito della team c'è scritto Devi configurare questo, questo, questo parametro A posto, dico io Dove cazzo sono i parametri? Non te lo spiegano dove sono Nonostante loro stessi ti vendano il router Loro stessi ti fanno la guida Ti dicono che devono cambiare dei parametri Ma non ti dicono dove trovarli Ve lo giuro, ragazzi Ve lo giuro Ho chiamato In un secondo mi ha detto lì E io avevo risolto tu Perché i parametri già li avevo Sapevo già dove dovevo metterli Non trovavo una tendina Una tendina di merda dentro il menu del router Grazie che esiste in internet per informarsi Perché non ho cercato, secondo te, Jacopo È perché so stupido Ragazzi, Google, è certo Ragazzi, l'ho cercato Tutte le guide che ho trovato Si riferivano ad un firmware differente del router Tutte Che naturalmente aveva un menu specifico da un'altra parte Perché secondo voi Prima di andare a telefonare all'assistenza Io, che non telefono mai all'assistenza Perché mi imbarazza a parlare con le persone Non ho cercato da solo su internet Perché so stronzo C'avete ragione Non è che ho cercato Prima di telefonare Rompere i coglioni A povero Cristo Che mi doveva aiutare È Come si chiamava la tendina Non me lo ricordo È colpa mia È colpa mia Vabbè Cazzo Fury Road Si era signor Galato Ho saputo che finalmente ho trovato casa Sì Sì E ho speso 30 euro per la rete Grazie per gli auguri Grazie mille Veramente piccio Veramente Cioè Allora Connetto Non funziona La prima cosa che ho fatto È prendere il cellulare Col 4G Ho collegato addirittura Per stare più comodo Ho collegato Il computer al cellulare Per navigare meglio Per cercare Ho aggiornato il firmware Del router Ho fatto tutto E però non si trovava Quella tendina no Perché evidentemente In uno degli ultimi firmware L'hanno spostata E non c'era più E niente Grazie Filippo Per i suoi 28 mesi A Tommy Cocci Ma signore Siamo già ad un anno di sub Ma allora la ringrazio Per l'anno di ficcanza Ma grazie mille a lei Grazie mille E Roccia Twitch mi dice che è l'anniversario Del primo abbonamento Auguri E non è vero Manca un mese Manca un Manca un Grazie Però manca un mese Ne riparliamo Promesso Promesso Ne riparliamo Grazie mille a Pagliacci Per i suoi 26 mesi Minchia E Stikaoza effettivamente Fa un anno Ormai è un anno Eh Se vuoi sapere Cosa Penso di te Fai swipe up Come E lo zio Web Grazie per questi mesi insieme Grazie mille a lei Porca vacca Allora stasera si lasagna Stasera si va Ficca Però Stasera lo dico Se va a finire come ieri sera Lo quittiamo Lo dico Perché non posso Andare avanti così La prima serata è stato un disastro Che non funzionava una sega Io accetto Di avere meno persone Dopo il disastro Di Di lunedì Lunedì c'è stato un disastro E immagino che Già meno persone Fossero venute martedì Perché erano meno interessate Giustamente Io lo accetto Anche fossimo in 500 La voglio finire la serie Perché ci tengo È un gioco che mi piace Ma se crasha un'altra volta Come ieri sera Vaffanculo Perché non ho voglia Di rigiocarmi I livelli più volte Mi piace Va bene Ma non voglio Rigiocarli più volte È una rottura di palle Soprattutto Ci si rovina l'esperienza Perché ieri sera Voi vi siete persi Metà di una cutscene Incredibile Ma io salvo Eclissi Il problema è che Il gioco ti infinocchia Nelle cutscene Ora Se un'altra cutscene Blocca il gioco E ci fa perdere Un salvataggio Stasera lo molliamo Per sempre Sto giocando da pc Però mi sono anche Un pochino rotto il cazzo Di questi porting Fatti col culo Ok Cos'è il Rivals Chi è il Rivals Non so No non le voglio saltare Pagliacci La sola cosa figa Del gioco Giochiamo a Hitman Che non si blocca mai Veramente Non si può giocare niente Non si può giocare Fusano un cazzo Mirko Fra qualcun anno di sub E' quasi due Che ti seguo Quando sei a Treviso Ci si fa uno spritz Vabbè Lo faccio io Prendo l'apero Il vin bianco E ci sputo dentro Perché sono un massimo esperto E gli spritz Alec Lo so che non è una donazione Ma lui chiede un auguro Per la verifica Di italiano di domani Ma tantissimi auguri a lei Ma se figuri Grazie mille Era il dragon 18 mesi Grazie mille Non era apero Il vino bianco Vabbè c'ero Non rompete i coglioni Uno vale l'altro Vedi Mirko Lo sapevo Era tutto Era tutto Una gabola Lui ha detto Qualcosa nel cu Però Non sono stato attento Caricamento riuscito No il gioco merita ragazzi Solo che abbiamo avuto Talmente tanti problemi Che basta Ok siamo arrivati Qui Bevo Bevo per dimenticare Noi la stiamo tradendo Per la terza volta E lei intanto incinta Che storia Mamma mia Insane Perché continua a tradirla Ma che se ne frega Tanto Ma è tutto un concetto Tutta Una roba Oh Ed è il momento Vedete Non sono alcolista Ma conosco le cose Vedi Bicchieri voto Sapendo che gli Stati Uniti Bandirono l'alcol Fra il 1920 E il 1933 Si chiama proibizionismo Fu proprio Ciò che spianò la strada Per lo sviluppo Della cultura del cocktail Perché annaquavano È vero Questa cosa la sapevo Loro praticamente Prendevano l'alcol L'alcol Che era diventato preziosissimo E lo annaquavano Lo univano Ad altri liquidi Per creare Cioè Per far bere di più Perché sono aranciottini E aveva anche Un sapore orribile Sapevo anche L'altra cosa Però Il pensiero profondo Bravo Io sono moonshiner Sì sì ma io lo guardavo La trasmissione Dei moonshiner È incredibile perché Loro andavano in mezzo Alla foresta A fare il moonshine Poi si mettevano in regola Perché volevano Continuare a fare Il moonshine In regola E non essere più illegali Ma allora non è più moonshine È alcol distillato normale E fa il suo lavoro Bastardo Il rosso vorrei dire Artemix Ti ho già ringraziato Perché mi riesci nelle orecchie Che ti ho fatto di male Grazie E il golf Perché il baseball Sono i osi uguali In realtà da guardare Però il golf Dormo più alla grande Eh signor Todd L'avrebbe detto Sì 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 È pieno di cicatrici No Perché È colpito da un ascia Signor Todd Cazzo Sweeney Effettivamente Sweeney Todd Prima ha avuto Delle mani di forbice Io voglio dire Delle battute così Acculturate Dove le trovate? Eh? Eh? Cos'è che è transognato? Non l'ho seguita Nella morte Un messaggino Chi è? Trisha Ma sì Ma chi me ne frega Di Trisha Basta Mettimi in spam Voglio le donne nude Voglio Mi scrive Trisha Ma va a fare Il culo Carissimo No Attenzione Attenzione Si ricorderà di noi? Abbiamo parlato con il Con la pecora polizzotta Da ieri sera Come? Cosa? Ma lui Non ho capito Come? Ma che? Ha confessato Ha confessato Ma che ha Confessato Vediamo se c'è una foto Zozza Ehi Cosa stai facendo? Voglio una tua foto Zozza Scrivi Sto bevendo con gli amici Parliamo dopo No Sono al lavoro No Cosa te ne frega? Che maleducazione Sto bevendo con gli amici Parliamo dopo No Oppure Non venire a disturbarmi Ok Oppure Parliamo dopo Eh niente Parliamo dopo Mentire però Non ho la risposta Nel caso vi siete persi La live di ieri sera Questa qui Una piccola anteprima Non dovete battere le palpe Però è Allora Dicevi che tu hai ucciso tua moglie E stai investigando su te stesso Un altro messaggino Chi sarà mai? Ah L'incinta Dove essere stata dura per te Credo di aver sbagliato Anche io Ad arrivare così all'improvviso Ah L'ha capito Volevo parlarti un po' più Faccia a faccia Rispondi Mi dispiace Non volevo farti scappare Volevo proteggerti No eh Che vuol dire Volevo proteggere No Vieni da me un'altra volta Volevo proteggere No vieni da me un'altra volta Dai Dai sì Possiamo parlare Possiamo parlare di dettagli La prossima volta che ci vediamo Quali dettagli? Signora Buonanotte Carissima Come le gestisco io Tutta la live di ieri sera C'ero quasi C'ero quasi dai Marco Polo Arrivato in Cina Ha scritto anche Un libro E ci ha fatto su un sacco di soldi Il riscotto ci fa un programma Per esempio Non c'erano Non c'erano Ma non c'erano Che fa quelle belle foto Amata Amante all'amante Eh questa è una buona domanda Attenzione Vuole che parliamo da soli Forse si ricorda Ah no Non si ricorda Perché eravamo Compagnucci di scuola Annarrammi un po' Amici nel ramo del governo Lui Si sente impotente Eh vabbè Esistono delle pillole Per questo amico mio Come è stato Una gara Ma si figuri Si ma vestiti bene Allora eh Non che io sia vestito Benissimo Non riesco a rendere felice La persona che amo Attenzione Anna Ha un'altra fidanzata E come si chiama Double fidanzo Io non Un messaggino Cattivo No come Perché mi sdombi Volevo solo vederti Posso chiamarti allora Posso chiamare Dai non mi chiamare No oppure Che insistenza Che insistenza Poi dopo che dico Non c'è nulla di cui parlare Oppure Devo andare Non ho tempo di parlare Non mi chiamare Non mi chiamare Domani mi alzo presto Una bugia Ora sto parlando a qualcuno Ed è vero Effettivamente È vero Beh non è una bugia Ho detto giusto Scusate Mi calmo un po' Perché questa musica Mi ha preso bene Oh salve Chi Ma che sorridente Io voglio parlare con lui Allora è l'amico Di quello a banana Ti sembra una brava persona No No mi sembra uno stronzo Ma io non ho il cuore puro Grazie Joker Buonasera A lei Va a letto con un sacco di donne Rubo l'ore Il denaro e scappo Come 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 le donne non mi piacciono Quindi è omosessuale Questo uomo Come funziona Che perversione è Le donne mi fanno schifo Ci vado a letto E rubo i soldi Ma E allora Scusa Come fa a cuccare Cioè Qual è la donna Che lo invita a casa sua Questo Rogito Con la maglia Gialla È un uomo di merda Chi lo invita Ti tireresti indietro Anche se la donna Dei tuoi sogni Dovesse provarci con te Certo Bugia palese La famiglia felice è un'illusione Madre e figlio non sono altro che donne e uomini È fin qui Ok Stavo scherzando Un messaggino Chi sarà mai Cattivo di Rerre Che noia Eh mandami una foto La prossima volta Ok Oppure Non è che tu dica cose interessanti Uuuuh No da stronzo Non posso rispondere da stronzo Ciao Buonanotte Ciao Buonanotte Dai Più elegante Più elegante Parlava di incesto lui Ok Dicevi Ma non dovevi andare a fanculo Ma basta Non voglio giocare Allora Sono tutto ciucco E vi siedo Che è qua Un investaggatore privato Ma Gianni è uno dei nostri amici E non lo so perché non lo vedo in faccia Sì allora sì Baga Un messaggino Trisha Come Sembra che i clienti Dello Stray Ship Abbiano Grossi problemi Scritto proprio così L'ha scritto Con due o Se li ignori Potrebbero smettere Il minore al bar E finire sulle pagine dei giornali Continua a parlare con loro E incoraggiarli Cazzo ma perché così contento Stai lì stasera Va bene Beh non mi dice niente Non mi dice niente Vanno a Parisio E poverino Ok Dover tornare a casa E riposare Invece parliamo anche col bonus È morto il cannone È morto Mentre lei era in vacanza Mentre lei era in vacanza Portai a casa Una giovane donna Per un po' di divertimento Poi le torno a casa All'improvviso Ma chi è che interrompe Le vacanze in questa maniera Io non le capisco Eh tu sono tornata prima Amore Ma perché C'è una vacanza Riposati Riposati Mi riposano Riposati Che vuol dire Che sono tornata Una settimana prima Dai Caraibi Chi Ti spiace Rattiger Va bene Avevo un gruppo E basta Niente Non si può parlare Più con nessuno E vado affanculo Tornare a casa Tutto Embriaco Guarda Ciao eh Alla prossima Grazie Era quello che stavo facendo Signorina Piccia Gruppo nel senso di Orgia Oh dai Perché abbiamo un braccio fasciato Siamo diventati capitani dell'Inter Cosa era successo Per il morso di Katrin Katrin Kat No Kat Non so Mi ha morso Sì ma mi pareva Mi avesse morso il collo Mi aveva morso il braccio Non lo so Gabriel Mi è venuto in mente l'Inter Che dice C'è qualche giappofilo Che ha detto Cosa ha detto Quadra angolo Primo piano Se passi sopra il blocco di ghiaccio Scivolerai Finché non raggiunge il bordo Mi sembra che abbia detto a Vincent Che è diventato capitano dell'Inter Allora Gabriel Lo sospettavo Lo sospettavo Ok Questi sono quelli che si già stati Ah no Ok si cade Va bene Va bene ho capito Tua mamma Quella scivolosa Ok Tranqui Fino Devi stare tranqui Ho sbagliato Invece guarda No Fermo qui Perché ho fatto così Ah Ok ho capito Ma che palle Che dice un cagacazzi Vabbè Vado su di qua Scimunito Scimunito Ti togli dal cazzo Cortesemente Sto bastardo Allora vado su di qua Guarda Mi ghiaccio il culo Ma L'importante È crederci Uh lì c'è Del Oh 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 Ah me l'ha dato però Il coso Sì Bene Guarda sono veramente un mago Cazzo La modalità facile Mi rende meraviglioso Aspetta che devo prendere il cuscinone Devo cacà L'ha detto L'ha detto Devo cacà Non mi è sembrata una gran mossa Infatti mi sa che è un fabbolo del mossa del cazzo Vabbè Facciamo che andiamo di su di lì Ostia Che succede? Edge Edge Ok Vai Edge Edge Bestia Che errore Facciamo così E così Che errore da Bastardo Non lo so Ci siamo Ci siamo Ci siamo Scivolo fino a qui E non me ne pento Faccio così E faccio così Io parlo Sì Giapponese Inglese Non sono bravissimo col francese Ma per motivi religiosi quelli Ho promesso Che noi Anche lo spagnolo Sono madrelingua Persiano Sì Però non parlo molto bene Il mongano Che muscoli Se lei è davvero duro Se le donne Non esistessero Gli uomini Verrebbero come divinità Ogunque ci siano delle donne Nascondono uomini stupidi Non sa tanto bene Ah no La testa a cannone Non è morto Ok A posto Non ho capito Che cazzo ha detto Sto rincoglionito Vabbè No Flex Vai tranquillo Anzi rinnova Rinnovate tutti cortesemente Cliccate su abbonati Qui su Dai Ci vuole niente Ma sì sì Sono solo Niku La domanda La domanda Senta domanda Hai mai dovuto chiedere Perdono A un ex amante Non ho capito la domanda Nel senso che Ci siamo lasciati E Le chiedo Perdono Per un errore Che ho fatto O Ci volevi riprovare Non lo so Vabbè Stiamo sul gene Sì Credo Una volta nella vita Un sì Ah amante Non fidanzata Intendevi quello Io pensavo Ah Non ho capito allora Ma se ho fatto a caso Il inferno Sta per arrivare Ci saranno mica Delle formiche Con la birra Stasera sono on fire Cazzo Solo citazioni colte Fantomas Orko cam Iero desmente Gada E rinnovare La subscription Grazie mille Ah ma Era sì E quindi Non ho capito Vabbè Non ho capito La domanda Fai anche tu Come fantomas Rinnova Il 15 Riceverai ben Tre video Se riesco a montarli Tutti e tre Però sicuramente Due Due al 100% Che urlo Non me ne pento Ok Allora Piano Regolatore Ok Che fatica Grazie a Gianlu Porca vacca Non è semplice Non è semplice Ma facciamo così Ha detto It's cold Veramente Non la vedo bene Mi sa che ha fatto Una cazzata Ok Vabbè Ci siamo Siamo tranquilli Siamo giovani Pimpanti Abbiamo un amante bionda Tranquilirei Dove va Merda dura Errore mio Ha scoreggiato Ragazzi ha scoreggiato Io l'ho sentito Era una scoreggia Ha fatto Ragazzi ha scoreggiato Effettivamente con tutto questo freddo Lo capisco Però Vincent Non so se ho fatto Una gran mossa Perché Non lo so Ho fatto una cazzata Ho fatto una cazzata Ok Mi sto incastrando Ok Sì Poi prendo questo Faccio così Funziona Sì Mi sa che Tranquil Qui Facciamo Questo Doppio gioco Di sguardi Tranquissimo Ok Questo lo faccio lì Vado su Faccio Così 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 Quello è morto Da bastardo Io non voglio morire Da bastardo Ed effettivamente Cerco di evitarlo Allora Evitiamo la via Col soldo E andiamo Nella via vittoria No c'è Ponte Bestia C'è un ciccione Facciamolo entrare In un caffè Ostia Non la vedo bene Qui Kaneda Che cazzo vuole dire Kaneda Ah Oh Kaneda Mi sa che Mi sto inculando Qui Ok Merda Merda È finita Ma sì Ci abbiamo un sacco di cose qua La cosa bella è che siamo arrivati praticamente Ok Così 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 Ecco Ok E il problema è qua Arrampicarsi Cazzo Non è semplice Ok Cazzo ma lì c'è il finale Ma come ho fatto Non Ok 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 Eh Nel culo me lo trovo adesso Bravo Bella idea No Ostia Niente No non va bene Torniamo giù Sto campane Però Ma era più facile di qui Ostia no Che non è più facile di qui E che cazzo E che cazzo Mi ha capito così Ok Per forza E ghiaccio No perché Ma no Ma anche se faccio solo un passo Scivola È un coglione Ma porca vacca Eh ho sbagliato Questa via Mi sembra Interessante Prendiamo Arrita in più Ok Però se faccio così No Allora Scivola Solo se ho fatto Il passo Effettivamente Ok Perché se io salto in giù Invece Non cade Va bene No Mamma mia Che rischio lì No Quindi se io faccio così Lo tiro via E che cazzo ho capito così Prendo questo Prendo questo E lo prendo in culo Sì Aspetta Mi butto giù di qua Sì Tiro questo No No Anzi Sì Guarda Faccio così Faccio così Non è vero Perché l'ho fatto così Non vuol dire un cazzo Aver fatto così Ho fatto la stessa cosa Ma al contrario Che scemo Tiè vai qui Sì Ok ci sono Ci sono Bestia che fatica No Ah ok Cazzo Che durezza Tocchetto E sveglietto Intanto Jules Intanto Stato bravissimo Sono stato Facile Bravissimo Goti Io Goti Sono l'uomo puzzle Voglio dire Allora salva No sì Sì vorrei salvare Oh no Sì Ok Che cornone Complimenti Tu Goti Noi ombre Chissà chi sarà Il boss Di questa sera Altre pecorine Più avanti Io li ho letto male La fine della mattina De Riggio Non si mangia Il maschio Dopo l'accoppiamento Cosa ne pensi Me ne frega un cazzo No 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 Dai dai Cosa mi sei questa sera Il vero inferno Abbiamo affrontato Il buccio di culo Il bambino E stasera Ma non riuscite a leggere I dialoghi? Delenti Però Eh E poi per fortuna È una domanda Veramente del cazzo Quella lì Il boss è che Il capitano Dell'Inter Vai Va bene Attenzione Ah è Catherine È il matrimonio Che lasagna Che lasagna Signori Ho sbagliato Come di qua Perché mi va Quella è la sua mossa Ah Il ghiaccio Perché lei è la donna di ghiaccio È una degli X-Men Edge Oh signora Signora Aspettami un secondo Che qua non ho mica capito Come cazzo si sale Questo A chi è po' E mi ha ucciso No aspetta Ed è Che è successo Ho scivolato Cazzo È dura qui eh Bella aggressiva Della nostra sposina Del coma Che non è Di prova Ok gatto Sei il numero uno A queste cose Vai tranquillo Vai tranquillo Come le prove Come le prove Doremi fa solo Si la do Dalla non è un cantante Ma un consiglio Ho la musica nel sangue I Backstreet Boys Sono meglio dei buoni Anche se Da battita badà Bestia E allora Sei una stronza Una Un'infame E impavida stronza Che c'è una musica Qua di Halo Nelle orecchie Pam 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 Questa qui Mi ghiaccia di culi Faccio così Guarda come me la penso No 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 E allora Ma sì ma va bene Ci faccio così Però il gioco lo sa Che qui è stronzo Infatti ti regala una vita Ogni volta che muori Anzi più di una 68 Io non ho mica capito Qui dove Cazzo devo andare No 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 Non cadere Bastardo E allora Sei fatto veramente Di merda Sì ma io come faccio Ad evitare di morirci Qui Cioè una volta Che ti prende Sei morto Me ne da due di vita Ogni volta che muoio Ho capito però Poi dall'altro lato Ma dall'altro lato Mi sembrava di poter Scalare di meno Da quel che ho visto prima Vado di qua Non mi sembrava Di aver capito Molto E va bene Ok Ok E vado su qui Poi spingo questo di qua E provo a cambiare lato Di nuovo Dai Eh il problema è che qui Non si fa un cazzo Ok Eh e qua Devo fare così 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 E la merda Vedi Mi incula E c'ha ragione lei Ma che cazzo Difficilissimo Sì sì Non è la sua fiatella Che mi colpisce È il ghiaccio Che cade Allora di qua Mi sembrava di aver Addoppiato Una possibile Soluzione Ad il problema Veloce 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 Perché lei Lei sale veramente Con una brutalità E malvagità Mai viste Cioè non so Oddio Che errore È nulla Adesso mi incula Perché c'ha ragione lei Mamma mia Ci vuole celerità Ho capito Però Come faccio Mi sto impegnando Ve lo giuro Allora Fai Like a ninja Touch for the very first time Ma se io faccio così Rimuovi i nemici Ma non mi serve Rimuovere i nemici Non ce n'è Orca troia Adesso sono scivolato Da bastardo Buona doccia Anonimi E no Grazie doccia Sì posso annullare L'azione Ma il problema Attuale Non è Annullare l'azione Ma farla giusta Muove i blocchi E Sperta di accampare Scusa Ho capito Che ansia E questo è easy Sì 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 Questo è easy Sì 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 Si vede la facile Sì 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 No ho sbagliato Ho sbagliato Questo mi incula adesso Stai a vedere Perché 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 Errore Che erro No non mi ha preso Ah che fa Signorina Dai che non vedo E allora niente Vaffanculo Tutto Veramente Ok No vai Qui Spingilo Spingilo Salici Salici Piangenti Scusate Mi sono lasciato Prendere Nemo Nemri Scusate Non ce la faccio Sto impazzendo Ragazzi Grazie a Gian Scusami Gian Popolo Pinnati Scusate 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 Grazie Scusate Guarda Eh sì Io non so come ho fatto a finirlo Tanto col bed della 360 Sono un mare ragazzi Tipo questo qua Me lo porto di qua E me che cazzo ha capito Se ho fatto un esempio Ho capito che sono uno stronzo Uno stolto Un bastardo Un pezzo di merda Un povero coglione Che faccio? Questo? Sì Guarda Aspetta aspetta Ci siamo la gabola Sì 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 Ce la faccio Ce la posso fare Ok Non mi soffiare le alitosi però Ok brava Brava ragazza La grande cara donna No Ho sbagliato Perché ho sbagliato? Perché adesso bisogna fare così Si scivola e si va di là Perché si va di là? Si scivola e si va di là Continuiamo così Via 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 Abbandona la nave che affonda Mi infilo Questo 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 Ma il checkpoint Dove cazzo è il checkpoint? Eh? Il merda di checkpoint Lo vogliamo mettere? Che fa? No E questa mincula Mamma mia Che ho fatto? Sì Sì Vai Il checkpoint Eccolo lì Lo vedo Grazie a chiunque mi abbia fatto donazioni Su quel che l'era Ok 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 ci siamo Ci siamo Ci siamo Tanti E fa bene una cazzata adesso Passeggiata di salute Cazzata Non ci vuole niente Guarda Tac tac Mi ha fatto cadere Bastarda 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 Che fa? Che fa? Cos'è sto vento? Ci sono Ci sono Scivolo ma ci sono Ci sono Ci credo Che fa? Che fa? Che frulla qui? Non lo so Ok sì Si fa Eh buono Lì un attimo Yes Campione del mondo Grazie mille Ricky Per i 38 mesi First try Io ho visto i capezzoli Eh Io ho visto i capezzoli Per un attimo c'erano No it Arredo Yes Ok 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 first try si 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 argento vivo core de daigo cosa vuol dire core de daigo bella scopata ora se gioco si impalla lo droppiamo per sempre ve lo dico che pecora sono le 5.30 del mattino non c'è la bionda perfetto adesso ci troviamo con un uomo così a caso sarebbe un bel twist un uomo grossissimo muscolosissimo pelato ma chi è che ti telefona il 5.26123 quel che è con la c o con la k steve steve era 0-2 chiamala Milano è pieno di ferite ma per i morsi di lei o per ma blocca il numero minacce o chiamo la polizia dici i morsi di lei si si ci sposiamo a luglio si si la sto solo usando ma fatti i cazzi tuoi ma io The Nick l'ho ringraziato non l'ho ringraziato The Nick grazie The Nick e vai mi uccide vabbè vabbè era il telefono amore si bucemi e tromba cos'è che c'ha che c'ha gli incubi che c'ha oh fantasmi il fantasma di Ashina lo sapevo Ashina è vicina le zombie chi c'ha chi c'ha vabbè metti la chiavina no che situazione divertente che fa è certo perché funzionano così gli spioncini delle porte no va a doppia corsia ah grazie The Nick però mi dispiace e ti pareva e ti pareva ma fate vedere il numero che carta canta c'ho il tabulato sei caricata Pikachu no detto Catherine eee era con la K ma l'altro non può essere il suo ragazzo è solo uno dei tuoi molestatori una cosa normale Alessi è imbarazzata perché le abbiamo detto che è carina dopo tre ciullate di cui una probabilmente è anale sei carina oh non dire bravi giapponesi di merda mi massacrano massacra anche lei il vecchio baffone dici fatti scherzoni ma sei scema ma che cazzo ma sull'occhio col bicchiere ma cosa qui è una strozza ma si poteva rompermi si conficcava tutto il vetro le lacrime del drago ah ok posso allora vieni scusa ho una cacca che andrà ma che sta ah non è che sta con noi e ci accudisce no cioè la caccona non ti cago bene brava 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 non lo sorprenderebbe oh erica bassa la cresta poveraccio perché specificare la diarrea è importante il dettaglio è importante la precisione sta nei dettagli diarrea ventaglio è vero ma lei è incinta non può andare con altri e se il figlio non è nostro è nero è nero non lo supera non lo supera colonna che è nera nerissima qual'è successo è strano perché tutti i frequentatori del bar stanno morendo massima esperta lei di cadute e non hanno fatto uno più uno questi clienti sono giapponesi non comunicano per davvero ma non sbaglio o è un dialogo un po' tutto inutile ok deve andare a pisciare messaggino il quinto giorno di otto bevo perché c'è il sigliozzo adesso dai grazie oh dai si dice che bere dell'alcol tutto in fiato non faccia particolarmente bene ma a volte è necessario perché il cocktail nicolasca è un esempio è composto da cognac limone, caffè e zucchero ma per prima cosa devi mettere limone, caffè e zucchero in bocca dopodiché devi bere una corsa sorsata di cognac ma non è quella dell'ombelico non è necessario nessuno ti obbliga a farlo sto lavoro ma ma un po' altro giro offro io si del del whisky 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 cazzo urla ragazzino cazzo urla io sono io sono preferito non cambia niente bevendo sono gli aneddoti se canile è passionale ma io mi ho tratto meglio prendo cura io johnny dimmi un po ok perché sospetto di lei ho la fiducia io ho la fiducia perché è incinta non ci lasciamo perché è incinta grazie a lei che ho detto per i suoi undici mesi lui non è incinto ormai ha già fatto erica era morta che bocca grazie a phil e a simsoul grazie ragazzi il icono è un anniversario sexy del mille mille sensi grazie mille si sfora stasera ma scusa è di tier 2 perché non è uscito quello fico elico grazie mille non avevo letto scusami grazie io non mi arrendo mai un messaggino chi sarà mai c'è della diarrea nel messaggino ah no è arrivato lui oh è sempre così tra amici appena uno si allontana si sparla e il mio messaggino non so che niente vuole aver fatto dei donnini nude è stanco qua perché che discorso hobbitini due mesi bella gattone grazie mille eh vabbè e salute messaggino chi sarà mai che ti rimanga la torta che ti ho dato andrà male so che ieri non abbiamo potuto parlare molto ho avuto da lavorare ed è difficile trovare tempo a volte non riesco a rispondere al telefono ti chiamo io presto non che lei no non voglio andare a fare no signor no non voglio parlare al telefono no no ma sono tutte brutte risposte e niente facciamo così ok grazie anche a chromium per i suoi tre mesi una buona medicina ti farà stare meglio funziona dispiace avertelo mandato a mettere il lavoro spero di aver causato guai intanto rispondo signora questo è troppo bella volete vederla? per un attimo per un attimo per un secondo dobbiamo andare in bagno? volete andare in bagno? devo andare in bagno? perché se volete che vada in bagno vado in bagno che parla era coperta ti vedi come un gatto? miau sì i formichè sono famose messaggeri delle streghe sicuriti pausa e via dai non riesco se sto male dicevate signorine? il signor Todd fermare il signor Morgan quando tentò di suicidarsi ma mister Morgan è un uomo di merda ha ucciso la moglie aggredisce la gente messaggine spero di sbagliarmi mi vedo con un amico domani quindi vuoi chiamarmi e farlo nel pomeriggio? non è da lavorare datti una calmata ok? oh stai calma ti spacco la faccia cos'è tutta questa ansia? sono tranquillo io sono tranquillo Luca tante cari cose a lei grazie che ansia si vede con un amico bevo ancora un po' bevo ancora bevo ancora ma che caziveria nel senso stare con un uomo che si metterà con un'altra effettivamente che bella copia spero tutti i miei guadagni semplicemente per poter comprare le borsette e i vestiti che non ti non ho finito direi ma che cazzo ma vaffanculo non so lasciatevi che mi frega ciao vado al cesso e la risposta è ma ti sei vestita apposta no faccio questo ah no ok cambia ogni volta peccato pensavo ci fossero spero di poter fare una melodia dai andiamo fuori vado a prendere il lubrificante che devi fare scusa c'è una cinghia che scivola logicamente è scoperta la diarrea un ex giornalista quindi non è più lui non è un giornalista più che bella storia ho fatto morire della gente ma questi due mi mettono tristezza bene distinzioni in base all'odore ma come è meglio in inglese in giapponese c'è tutto questo candore eh madonna essere incurata per troppo tempo mi fa ridere scusami mi è arrivato un messaggino triscia hai notato quell'indicatore che appare ogni volta che hai una scelta che dici qualcosa è difficile non vederlo i valori di Vincent sono sempre messi alla prova il suo stato mentale può cambiare l'esito della storia anche il modologo interno sente quando in difficoltà viene influenzato fai attenzione a quello che dice ma certo ma attualmente il giapponese è la lingua dell'amore ma basta queste cose sulle se si sta allora lui se ne va allora oh c'è il ciccione assassino parlo col ciccione assassino mi stavo aspettando è morto? e lo sapevo io misteriosamente era grinzito ma nessuno si fa delle domande in detto non te l'hanno sgamato subito che era uno diciamoli si era buono a capire ma non era stato lui ma non ragazzi era detto che era lui ieri ma non ho capito non era lui che ha ucciso e poi indaga su se stesso non ho capito conta balle questo si 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 ma loro stanno non posso preparare ah ok fate attenzione chissà se arriva a Catherine e li possiamo dire che la diarrea c'è passata vai la benzina è un liquido volato è altamente infiammabile quindi è come l'alcol no? da benzina o carburante per auto quindi l'auto potrebbe funzionare anche con l'alcol in una corsa in Sudafrica un'automobile è riuscita a percorrere quasi 300 km usando whisky come carburante va bene ha senso parlare con Erika ci sblocca nuove situazioni è sparita ah no è quella lì cazzo non posso più parlarle oh si aspetta mi siedo si che cazzo vuol dire che ti frega sono no no si no ness Mackay era twelve alcancima è spiega non è e non Buonanotte Fury Ok Ciao Castigata Mamma mia Farò attenzione Triangolo con Erika? Sì ma chi sta in mezzo? Sì ma chiunque E via col sonno Vai Mi piace che come la sua vita sia letto bar letto bar Ma lui lavora nell'informatica no? Ma non l'abbiamo mai visto lavorare E me? Ha salvato? Non potete... Cazzo dal telefono bisognava salvare E niente bisogna superare il primo livello Per salvare adesso Mi dimentico che si salva dal telefono Che palle blocchi bomba Sì 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 Dai 6 di 8 Però ci serve perché Ah no Questi si potevano spostare Perché sono quelli normali Ah Cazzo Pensami Sono dimenticato come sono fatti i blocchi Ah no È semplicemente durissimo questo blocco qui Va bene Cuscino on Non so cosa sia Sali di due gradini Cazzo comoda questa situazione Check a point Bestia di lì c'è la morte Mi piace la musica classica Cazzo No perché non E niente pensavo di passare Invece sono morto Dal check a point Musica merita assai Allora Toccate 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 Allora Allora I got it Ok Allora I got it Sì A posto Atacchete E tic Che tacchete E di dac Che inculata Gatto Che inculata Sono un campione Voglio far così Eeeh La merda La merda nel culo Sali di due gradini Ah no ma non è così Quello che pensavo Come funziona Sta cosa dei gradini Ah così funzionava Ok Adesso lo so Bravo Eeeh Ok Non ho fatto niente Ho fatto una cazzata Ma non voglio Ma perché mi Mi annulla la mossa Di quello Il caprone di sotto E mo Che abbiamo capito Te E beh Ti togli dal cazzo Che stiamo lavorando qui Ok Ho sbagliato tutto Eeeh Mi sa che mi sono inculato Eeeh Eh no Non la risolvo Però questa Potrei risolverla Così No Ok Così Così Ascatoia Così Perfetto Ah è vero Ma le mosse Te le conta Non mi ero scordato Di questo dettaglio No Non è vero Che me le conta Le mosse Cosa dici Allora Prendo sicuramente Il cuscino Però faccio anche Questo lavoro mistico Non è vero Non serviva un cazzo Guarda Basta fare così Ok Ti E ti togli dal cazzo Grazie Ti Ti Ok E mo Allora Che cosa è questo? Merda C'ero però Fa un culo Ok Tra tutti quelli Allora Sì Eh no Ma no E no Che dolore Bastardo Suppa Mario Eh boh Bravo Ciao Fuori i coglioni Ma che cazzo Favolo serve sta roba qui Ok Merda oh Arca vacca Quello non va Ok Questo va però Ci sono Ci sono Cazzo questo qui È il primo livello Tra l'altro Oh I got it Ok ci siamo Perfect Mi sa che è esagerata Come cosa Ma va bene Vai Bronzo Dai va bene Ok Salvo Eh sì Che sembravano Semilavoro di gioco Invece sono solo tre ore Ogni rigma ha una soluzione Bravo Flex L'ottava domanda Cosa fai quando ricevi una telefonata Da qualcuno che non ti piace Eh vabbè Mi ha telefonato Ci sarà un motivo Rispondo Cazzo vuol dire Scusa Il gatto sulla lussuria Mi piace Buonanotte Mi richiama Steve Dice Ok Uno due Perfetto Abbiamo altri due livelli Ci sono delle bombe Più bombe Non stiamo parlando di sanno Non morirò Ma è un bel pensiero di vita Are you ready? Get ready All right I got it All right I got it Bestia Che errore gatto Bravo Ma io sono un mago Check a point Me la rischio Mi piace Che è successo? Yes No Cazzo me ne frega Cato fatto Vabbè Cato bravo Gatto è stato bravo Cos'è questa? Ah una molla I blocchi molla Ma scusami Oh sì oh sì Piano 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 No no Volevo andare giù di lì Non posso? Ok No Ma porca vacca Ma sì scendi Ecco Ops Tranqui figa Tranqui Siamo i più fighi del mondo Siamo Guarda come si va su In scioltezza Quando si becca la strada giusta Cazzo ci vuole Gioco di merda È facilissimo Guarda come sono Invincibile Check a point Va beh va Facciamo così Hop là TAC 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 come uno stambecco guarda guarda qui un altro cuscinazzo no questo merda 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 no non possiamo non va bene questa non va bene questa non va bene questa che c'è qual è quello che sta andando nessuno ok merda 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 ok me la penso così me la penso dal capitano della nazionale in pensione allora vado qui la butto giù di lì la butto in ridere cazzo vuol dire c'è via nel culo vuol dire eh sì ahhh non è rimasto più niente qui eh no posso avere un blocco in più orca vacca mamma mia sì 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 eh le campane ti stanno veramente flottendo il cervello eh uh chi si vede uh chi si vede un amico che ha la diarrea ciao bel cappello amico mio perchè non si dicono nome perchè non parlano che stronzato effettivamente Jules ha fatto bene a farci fare il facile ormai ok se qualcuno del tuo stesso sesso ci provasse con il tuo partner tu cosa faresti lo uccido intervengo o mi fido ah vabbè se sulla fiducia ora mi fido spesso dover uccidere uccido ok attenzione l'ultimo livello della serata sia in game che nostro aspetta ma cioè manca un'unica serata poi con più livelli ma manca un'unica serata vabbè sono un killer sono un killer ho l'occhio della tiglia get ready c'è un ragno che schifo che schifo che schifo una formica che schifo e beh che fa mi sformica e togliti dal cazzo niente allora vaffanculo scusa che formica ok posso grazie coglioni le formiche guarda che cazzo le conosco oh ma basta ma che cazzo te ti sformico ancora ti sformico che non ho capito qui che cosa devo fare devo andare in 3D non vedo una sega però non mi sembra di aver fatto una gran mossa no ma che faccio e allora sta formica ti pare niente non si fa ok no ok non capisco allora non capisco come si fa ma che cazzo oh fin qui credo di esserci e anche qui credo di esserci e se io dovessi fare così non capisco perché avrei dovuto fare così ma dai ma porca troia no devo andare di qua sicuramente devo andare di qua è che allora io prendo questo e che cazzo ho risolto facendo così no niente che sono uno stronzo risolto per andare su di qui magari ok ci sono ci sono e mi sono inculato però per il checkpoint vabbè mi se ne frega facciamo così bestia che durezza ehm ehm eh ok io prendo questo ok si trovo questo qui li cadono no no porca la merda porca la merda eh con il potere di grayskull è finito è finito figura di merda è finita tutto è finita la magia ehm cazzo ti avevo suggerito di usare oggetti per un motivo no no certo ah dici che sono proprio obbligato ad una certa ma non la vedo bene qui non la vedo per niente bene anzi ecco bella inculata bravo bestia che durezza sotto di me nel frattempo mi si sta creando una voragine anale e non di quelle belle check a point non sei obbligato a usare gli oggetti dice jules non lo so vediamo con il potere conferitomi in culo perché non so che fare adesso faccio così questo ci vuole e qui crea un blocco si no 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 che brutta idea è stata creare un blocco lì che serviva vabbè gli oggetti ti rendono la vita più facile ma non sono obbligatorie no certo però non siamo messi benissimo diciamo vado di qua e che cazzo vuol dire che vado di qua ah ok no ok vai su ma scusami si perdona mi è vai si facciamo così e perché non l'ho fatto più perché sono uno stolto mi stai dicendo un pezzo di merda un bastardo un povero coglione uno che è nato sotto un cavolo e magari è merenda ok ci siamo un po' di vista ebbene sotto una sega perfetta è importante averci creduto però per quell'istante vaffanculo ah no ma non era l'ultimo livello questo giusto devi stare molto calma eh calm your tits I'm a master of the dry dye yo madafuck fotti madre attento che si muore di solo altre 99 vite salta mano sul letto ok no io voglio finire la notte però ok sono mai stato così bravo ad arrampicarmi nella vita proprio che strano pensiero a fare no non voglio non me ne frega niente delle tue tecniche di merda io sono bravissimo la domanda la tua ragazza ti tradisce oh no sarei tristissimo ti fai lasciare lasci cazzo dire ti fai lasciare la lasci cosa va dire ti fai lasciare non mi hai capito musicanza un abbraccio da parte mia di mia moglie che la sappiamo sempre sei un grande oh grazie mille attenzione chi mi attaccherà stavolta cazzo vuol dire ti fai lasciare lasci no vertaz è un gioco dei troni vuol dire che aspetti ti lasci lei intanto ci resti insieme ma mi fa tanto schifo questa cosa ma proprio a livello al di là dello schifo che è morale mi fa proprio schifo a livello fisico infilarmi dove si sta infilando qualcun altro e condividere la mucosa schifo grazie mille infatti che schifo se non avrei detto che schifo chi è è tornato il bimbo ma aspetta l'hanno reso bionic eh no che non so tuo padre sarebbe strano ed è qui che hanno rubato l'idea di come fare certe cose in Five Nights at Freddy palese copia ho fatto la cazzata ho fatto la cazzata ah no non è vero aspetta aspetta guarda bravo bravo gatto e mo cosa abbiamo combinato nella nostra vita tra degli stronzi si adesso adesso muoio schiacciato guarda che brutto errore uno dietro l'altro bravo grazie mille a silver siamo a 5 come le dite nella mano che mi piacerebbe stringere un saluto da Pordenone a lei un saluto a tutta Pordenone tutta proprio adesso esci di casa per fare questo favore quanto che ora è sono 10.40 esci di casa ma i saluti uno a uno tutti i Porden i i Pordenini Pordenini no Pordenesi i Porden i Porden ok li saluti grazie come sei che è un bambino anche smitragliate tutto tutto sa tutto lui sa tutto lui ma cascata in testa una sega i Pordenonni i Punderosi i Potredosi l'attacco del bambino è un po' più devo dire che l'attacco del bambino è un po' più perché smitragli e dici ma sì ma non mi colpisce il bambino mi cacciamira il bambino e invece porca troia ah la sega gira non avevo vista che la sega gira è strano oh Bonnie non facciamo gli scherzi non riesco a stargli dietro cazzo questo non so perché me la son pensata vediamo se l'ho pensata giusta l'ho pensata giusta perché sono il migliore dei puzzle game bestia che durezza sto usando sempre questa modalità di arrampicata che è facile e banale aspetta 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 me l'ha rotto ma la sega guarda guarda che tattica cazzo se sono figo da madonna non ho risolto un cazzo così non ho risolto no quello lì aspetta non ho seguito una sega bene così oh oh va bene va bene facciamo così ho capito e niente dai cazzo lì c'è il salto della quaglia aspetta così magari non abbiamo più il bambino no ok uno un altro vai che durezza ragazzi che durezza ok passa la sega ci siamo quasi ma che fatica che merda di fatica vado mamma mia porca vacca proprio adesso che ho attivato quella lì doveva rompermi il cazzo ci siamo quasi ci siamo quasi ma dai ma non era ne ancora arrivata eh cazzo qua siamo in un sotto sotto eh cazzo ma è tantissimo che dobbiamo rifare eh dai vaffanculo bimbo di merda con tutta la fatica che ho fatto cazzo che ho fatto perché l'ho fatto quello che ho detto vabbè mi importa eh le sega mi infregano non riesco a dargli neanche troppo distacco al bimbo di merda eh vai è veloce sega del cazzo vai va bene non me lo dire non me lo dire porca vacca è lo stesso trick di prima che mi sono impulato yes che culo eccellente insomma veramente insomma amico mio eh che cazzo abbiamo risolto così siamo tutti figli di Pitagora e anche un po' di Casadella no no questo è stato un errore scemo scusate se non vi sto cagando ragazzi ma sono leggermente in difficoltà va bene ok ok All right, I got it. Dai. Dai che ci siamo. Non ti far preoccupare dall'uomo delle seghe. All right, I got it. Troppo tardi, mi sto cagando addosso, ragazzi. No, 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 non possiamo permetterci di cazzeggiare qui. Vai, 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 che fatta. Vai, che fatta. Yes. Sì. 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 Anche le seghe dagli occhi no però Dite che riusciamo a finirlo nella prossima live Ce l'ho fatta Ma gli ho dato anche un bel po' di distacco Non lo finisci in così poco In altre due ore non lo finisco Ci manca solo una notte in realtà Abbiamo fatto due ore anche stasera Ora io spero che qua non ci sia la orca troia Se si blocca qui è finita Io non lo rifaccio a questo livello Lo abbandoniamo qui E' crashato Prego Non credo Visti i precedenti Che abbia fatto un save Ma ne dubito Sì però ragazzi Veramente un gioco del Cioè può Un gioco fare queste cose Capito me la sono chiamata Però cazzo Cioè fatele bene le cose Cioè è crashato proprio Domani sera non ci sono Sarò ospite a The Box Nana No mi dispiace Mi dispiace tantissimo No Anche a me stava piacendo Però no Non possiamo E' la seconda volta No questa poi è da rifare Una rottura di coglioni Abbiamo fatto fatica Vediamo Allora se Se mi viene voglia Mi rifaccio il livello da solo Però così no Ok Così Così veramente no Deve venirmi voglia Grazie intanto La costoletta è impanata Ciao gatto Sono in tv Grazie mille Eh lo so che siamo poco Oltre la metà Ma se è così ogni volta Allora io Io so già come finisce Perché io l'ho già giocato Non mi ricordavo Durasse effettivamente Così tanto Vediamo E che il problema Se ogni volta Che c'è una cutscene Crash così Che due coglioni E' tutto inutile Non ho voglia Infatti poi dopo Vi perdete le cutscene E allora che serve Cioè Io ci gioco da solo E mi vedo la cazzina E poi ve la racconto Perde tutto il senso Della live E non ha senso Proprio Eh mi dispiace ragazzi Io ci ho provato Cazzo però Cioè non posso così Ogni sera Abbiamo buttato veramente Cos'era Una ventina di minuti Tutti per fare il livello Non ha senso Poi cercherò qualche fix Però che due coglioni Un aggiornamento Di The Wall Nel frattempo Vabbè ragazzi Mi dispiace un sacco Veramente tantissimo Vi auguro Una buona e dolce notte Noi ci vediamo domani mattina E poi vado a Milano Quindi domani sera No 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 Domani mattina Sì 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 Va bene ragazzi Buonanotte belli a domani Buonanotte belli a domani Grazie a tutti Ciao Grazie.